In questo progetto abbiamo coinvolto alcune cilenze norvegesi, ci sono due leader mondiali nel settore delle sedute ergonomiche, Kog e Varier e poi abbiamo coinvolto la REC che è un leader mondiale nel settore di energia rinnovabile e fotovoltaico. Varier, nota azienda norvegese che ha sempre dedicato e indirizzato i suoi sforzi nel benessere dell'uomo nella seduta, ha sposato anche questa partecipazione, questo supporto, questa manifestazione proprio perché ci accomuniamo, siamo stati sempre i pionieri della seduta ergonomica quindi rispetto per l'uomo, rispetto per l'ambiente e seguendo sempre questo concetto dall'anno 2009 siamo anche i distributori di Hogue che si accomuna noi sempre per il rispetto della seduta corretta dell'uomo e dell'ergonomia in un ambiente ufficio. Hogue dal 1943 progetta, disegna, produce e distribuisce sedute ergonomiche per ufficio è considerata l'azienda più innovativa per quanto riguarda l'ergonomia applicata all'assoluto da sempre porta avanti quattro pietre miliari che sono, se vogliamo, una declinazione in ambito aziendale di quello che è un po' la cultura della società norvegese, ovvero il rispetto. Le quattro pietre miliari sono il rispetto per l'ambiente, l'ergonomia quindi il rispetto per l'utilizzatore della seduta, la qualità e il design scandinavo quindi il rispetto se vogliamo anche per l'investimento che è stato fatto in chi sceglie le nostre sedute. Grazie.